Buongiorno a tutti, è un grande piacere essere di nuovo qui ad Algeria per presiedere il quarto vertice intergovernativo tra Italia e Algeria. Questo vertice è l'ultimo di una serie di incontri istituzionali tra i nostri paesi. Voglio ricordare in particolare le visite di Stato del Presidente Mattarella ad Algeria lo scorso novembre e del Presidente Tebuna a Roma lo scorso maggio, oltre alla mia visita di aprile. Voglio ricordare il Presidente Tebuna a Roma. Ringrazio ancora una volta il Presidente Tebuna. E il Governo algerino per la calorosa ospitalità. L'Algeria è un partner molto importante per l'Italia. Lo è nel campo energetico, lo è nell'industria e nell'attività imprenditoriale, nella lotta alla criminalità, nella ricerca della pace e della stabilità nel Mediterraneo. La dichiarazione congiunta e le intese appena firmate riflettono l'ampio spettro di collaborazione tra i nostri paesi. Questo include la giustizia, lo sviluppo sociale, la cooperazione industriale, i lavori pubblici, la transizione energetica, la promozione culturale. Voglio ringraziare le nostre amministrazioni per il lavoro svolto per questo vertice, che sarà di grande beneficio per i nostri cittadini e le nostre imprese. Questo vertice ha anche confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi l'Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro paese. Nel giorni scorsi, la società algerina Sonatrac ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l'Italia nell'ambito dell'accordo firmato con Eni ad aprile. Si tratta di un'accelerazione rispetto a quanto previsto e anticipa forniture ancora più cospicue nei prossimi anni. Collaboriamo anche alle forniture e allo sviluppo di fonti rinnovabili, in particolare dell'idrogeno verde, dell'energia solare, eolica e geotermica. La transizione energetica è fondamentale per i nostri paesi, è fondamentale per l'Unione Europea. Il vertice di oggi è anche l'occasione per riaffermare l'impegno di Italia e Algeria per la stabilità e la prosperità del Mediterraneo messe a dura prova dall'invasione russa dell'Ucraina. L'Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del Mar Nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per favorire un accordo tra Russia e Ucraina su questo tema. Il governo italiano si è attivato anche in questo atteggiamento per ottenere questo tema. Il sviluppo nei negoziati in Turchia l'ultima settimana sono un segnale incoraggiante che ora deve essere consolidato. Come ha ricordato anche il presidente Tabun, Italia e Algeria continuano a lavorare per la pace nel Mediterraneo a partire dalla crisi libica e dalle difficoltà che affronta la Tunisia. Sono certo sapremo dare un contributo decisivo alla stabilità di questi paesi nel rispetto della loro sovranità. L'amicizia tra Italia e Algeria è essenziale per affrontare le sfide che abbiamo davanti, dalle crisi regionali alla transizione energetica. Quindi la soddata e la soddata tra l'Italia e il Gesele è in grado di fare un'attività di un'attività di un'attività di un'attività e di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. Grazie. Grazie. Grazie.